Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Cesare Martignan. In A1 rallentamenti in direzione Bologna tra Chiusia e Incisa e tra Firenze in Pruneta e il Bivio A1 variante di Valico. In direzione Roma sempre in A1 troviamo rallentamenti tra il Bivio A1 variante di Valico e Calenzano. In A11 verso Firenze code a tratti tra il Bivio A11 Aurelia e Pistoia. In Fipilì in direzione Firenze tra Lavoria e Ponte della Ovest si registrano code a tratti. Ralentamenti anche tra Empoli Est e Firenze sempre verso Firenze. Sul raccordo Siena-Bettole per lavori fino al 26 settembre è chiuso lo svincolo di Sinalunga in entrata e in uscita in direzione Siena. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, per consentire un controllo tecnico prima della partenza il treno regionale 3080 Firenze-Santa Maianovella Lucca viaggia con 24 minuti di ritardo. Arrivo previsto per le 19.45. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!